Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, restano rallentamenti per traffico tra Calenzano e Vio 1 variante in direzione nord, Prudenza per nebbia banchi tra Roncovilaccio e Aglio. Sempre in A1 per attività di ispezione all'interno delle gallerie, segnaliamo la chiusura del tratto compreso tra Pian del Voglio e Rioveggio nei due sensi di marcia. Regolare al momento il traffico in Fipili, dove segnaliamo che sta piovendo tra Firenze e BVOSGC Fipili di Ramazione Pisa. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, stanno proseguendo i lavori Publiacqua in via lungo il Mugnone con chiusura da via Bersche a Ponte Ranieri-Bustelli. Itinerari alternativi per chi arriva da via Faentina, via Salviati, via Bolognese, via della Badia dei Roccettini, via San Domenico. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!